Non aprire mai la porta a sconosciuti che non siano in grado di identificarsi compiutamente anche se indossano un uniforme o se hanno l'aspetto di persone distinte e professionali. Ricordarsi che nessun operatore delle forze dell'ordine o di altre pubbliche amministrazioni è autorizzato ad acquisire denaro contante o altri beni direttamente a casa del cittadino e che in Italia non esiste l'istituto della cauzione in caso di fermo o arresto. In caso di telefonate dal contenuto allarmante prima di dare seguito a qualsiasi richiesta o aprire la porta contattare il numero unico di emergenza 112 per chiedere riscontro sulle informazioni ricevute e chiamare sempre i propri familiari avvertendoli di quanto sta accadendo. Queste le raccomandazioni dei carabinieri di Mistretta per scongiurare il rischio di raggiri ai danni delle fasce più deboli della popolazione in particolare anziani e dopo l'ultimo episodio in ordine di tempo avvenuto nella cittadina montana ai danni di una persona anziana finita nella rete con la tecnica del finto carabiniere. Una delle truffe più odiose in quanto fa leva sulla fragilità e timori dei soggetti più vulnerabili le persone anziane che vivono da sole non hanno dimestichezza con i dispositivi mobili o con le moderne tecniche di informatizzazione. Modus operandi identico ad altri episodi avvenuti in tutta la Sicilia. La vittima riceve una chiamata dall'altra parte c'è qualcuno che si presenta come maresciallo dei carabinieri. Informa la vittima che il figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale e che è in stato di fermo. Per non farlo finire in carcere occorre versare una cauzione di diverse migliaia di euro subito. Una notizia che getta la povera anziana in uno stato di agitazione e confusione non avendo la somma immediatamente a disposizione e che si trova certamente spiazzata. A quel punto qualcuno bussa alla porta. Sull'uscio un uomo cortese distinto che in questo caso si è presentato come carabiniere incaricato di ritirare il contante necessario per pagare la cauzione ma potrebbe anche dire di essere un avvocato o un delegato. La vittima quindi in preda alla confusione raccoglie ore preziosi e li consegna mentre il malfattore si dilegua. Sarà solo dopo contattando in questo caso una nipote e proprio una figlia del figlio che sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente che l'anziana realizza di essere stata purtroppo truffata. Su quanto accaduto indagano ora i carabinieri della locale compagnia coordinati dal capitano Silvio Imperato e che sono già al lavoro per identificare i malfattori. I carabinieri ricordano che oltre alle buone regole di cautela è utile segnalare tempestivamente ogni caso sospetto per consentire un immediato intervento.